Premio Venezia 2020, siamo con Loretta Radanghera, direttrice del premio e della commissione d'ascolto. Le chiediamo di raccontarci le emozioni di questa grande serata qui in piazza Mercurio a Massa. Beh sì, è un evento interessante in quanto abbiamo ascoltato tantissimi ragazzi con pezzi diversissimi uno dall'altro e hanno toccato temi diversi, l'amore, il sociale, la violenza, quindi donne, gruppi musicali, ragazzi cantautori che si accingono a scrivere e a cercare spazio nella musica. Speriamo che lo trovino anche attraverso i premio Venezia, attraverso insomma anche il loro talento. Parliamo un attimo anche della tua performance, della tua canzone bellissima che abbiamo ascoltato, questa sigla, rappresentati come è nata questa collaborazione. Beh sì, insomma è una canzone che ha scritto Gaetano Curreri e è nata perché volevamo tutte e due dedicare una canzone alle canzoni, infatti Parole senza musica si chiama appunto il brano che è la sigla della premio Venezia e con Curreri abbiamo pensato di racchiudere, o meglio ha pensato lui perché la canzone l'ha scritta lui, di racchiudere all'interno di pochi minuti le emozioni che una canzone può dare e i messaggi che possono arrivare in così poco tempo attraverso la forza di una canzone. Ciao amici di Radio Bruno, ciao a tutti, a presto!